Ciao a tutti, video super rapido, mi è stato richiesto un rimedio naturale contro le zanzare allora io non ho uno preferito che vi faccio vedere che è col caffè, quindi è facilissimo e lo vado a spruzzare a casa sulle zanzariere o sugli infissi delle finestre e delle porte vi faccio vedere come lo faccio, è semplicissimo semplicemente vado a prendere uno spruzzino e ci metto dell'acqua del rubinetto vado ad aggiungere del caffè quello che è caduto fuori lo vado a riprendere agito e adesso andiamo a spruzzare l'acqua la spruzzo qui oppure posso semplicemente andare a fare una cosa più intelligente vado a metterlo qui io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato dacci un like se il video ti è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!